Ciao a tutti, stasettimana qua ai giornali sportivi, stadio, tutto sport, la Gazzetta, parla delle Olimpiadi Invernali che è in Russia a Sochi. Noi come italiani non è che ultimamente nei sci eccellente, proprio quasi zero, tanto più che anche la RAI la scelta e la scelta non manda mai in onda le dirette della Coppa del Mondo. Ora mi ricordo che avevo anche le palpitazioni quando noi avevamo la Valanga Azzurra, non so se vi ricordo voi che era Gustav Töni, Lerwin Strickert, Lermuth Schmals, Herbert Planck, Ronald Töni, tutti i denti da Vipiteno Mare, insomma. Dopo che erano Lanzi, Besom, Ghedina, Tomba, però mi ero innamorato in quei tempi del Pierino Grosso. Allora il Pierino Grosso secondo me era il più bravo di tutti. Allora alle Olimpiadi Invernali non potevamo andare, mancare noi come telegarde a Trentino. Allora abbiamo iscritto anche noi il nostro atleta, bravo atleta, l'è uno proprio che vai fuori dalla Valanga Azzurra. Allora sarà il neodo del Pierino Grosso, sarà il Dante Grosso. Vai Dante, vai Dante. Ecco, mi presento, complimenti. Ecco, questo è il nostro atleta che mandiamo alle Olimpiadi invernali. Però il Madrid, che da solo non va via. E se tolgo anche il massaggiatore, il dottore, il Garcette Ote, l'Aure, via nel Massachusetts, cos'è lì, nell'Illinois, no? Sarà il dottore, il dottore Frendolo. Venga dottore, ecco, lei è il dottore, il dottore Frendolo, che è il dottore. Fra l'altro, è il gantone da te, è il gantone da te l'ara, eh? Che la mia parla, venga fuori dalla lavanderia di mia sorella. Raga di tutte le righe. dottore, va bene. Però questo è il dottore Frendolo. Pensa che il Gatrioca ha il termometro da misurare la temperatura della nef, perché se no la valanga azzurra che la faria fatica ad arzò. Allora, complimenti al dottore Frendolo. Mi fa vedere. Ma lui ha il parente chiaro? Mi pare uno da Stranforo. Chi è? Chi è il suo? Il mio fratello. Complimenti al dottore Frendolo di Stranforo. Allora, lei ha specializzato in fratture multiple, è bravo, poi mette insieme di tutto. L'ultima volta l'ha messa insieme da bala anche a chi è al circolo pensionati. Allora, per dirvi una roba, doveva venire anche l'assessore allo sport del comune di Arco, ma mi ha detto adesso che lei è in giro col camper che attacca su manifesti e forse non ora guarda che c'è da verso la porta... eye... Ecco, 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 l'assessore allo sport del comune di Arco che porta i biglietti per andare via alle olimpiadi in Russia. Però, l'assessore dovrebbe avere una speranza, però, che non tanto questi qua che vinguessero la medaglia d'oro, ma Ma visto che i soci, questa roba, le li vissime la Siberia, non è una speranzia che ne li tenga via. Allora, la speranza nostra non è quella di vincere la medaglia d'oro, ma di cavarla di due semplissoni come questi qua. Allora, alla prossima, ne vediamo giovedì. Arrivederci da Telegarda Trentino.